Lo sport è un veicolo importantissimo per le nuove generazioni. Spesso gli sportivi diventano miti da emulare, quindi è importante che passi il messaggio giusto. Nel mondo del rugby il rispetto è la parola fondamentale, il rispetto tra compagni, quegli avversari, delle regole, degli allenatori, tutto quello che avviene fuori dal campo. Sono felicissimo che l'Università Cattolica accompagna eventi del genere, perché credo che l'allenamento della mente sia importante tanto quanto con il fisico. Io ho cercato di finire i miei studi, mi sono appena laureato, quindi possono andare a un faccetto studio, rugby e sport.